Gentili telespettatori, buona giornata. Adesso è confermato il Presidente del Consiglio Maria Draghi ha rassegnato le dimissioni, ha confermato le dimissioni da Presidente del Consiglio dei Ministri. Il governo Draghi è caduto, adesso si attendono le comunicazioni del Presidente della Repubblica per stabilire la data delle elezioni anticipate, quindi il governo non c'è più e l'invito di Mattarella a restare per gli affari correnti. Draghi ha riferito a Mattarella sulle discussioni in Senato e ha ritirato le sue dimissioni irrevocabili. Entrato dal cortile del Quirinale sul tappeto rosso, il Presidente del Consiglio è uscito da un ingresso laterale. Mattarella ha preso atto delle dimissioni del Premier e del Governo. Draghi e l'esecutivo restano in carica per il disbrigo degli affari correnti. Piazza Affari accelera il ribasso e segna le 10 e 15 del mattino una perdita di 2,6 punti percentuali. E così ci sono delle conseguenze immediate economiche. Il faro dei mercati è puntato oggi anche su Francoforte dove la Banca Centrale Europea annuncerà e la scommessa unanime degli operatori il primo aumento del costo del denaro in più di un decennio. Due aspetti saranno al centro dell'appuntamento della Banca Centrale Europea tra Consiglio Direttivo e Conferenza Stampa. Intanto vediamo che due aspetti saranno al centro dell'appuntamento della Banca Centrale. Il rialzo dei tassi di interesse e i dettagli dello scudo anti-spread. Con un inevitabile sguardo all'Italia e gli sviluppi della crisi politica, ora lo spread è oltre i 220 punti come il differenziale greco. I mercati peseranno quindi ogni singola parola del presidente Christine Lagarde per confermare o smentire le proprie attese. I tassi. Le ipotesi più accreditate prevedono un rialzo da parte della Banca Centrale Europea dello 0,25% in linea con le indicazioni fornite in precedenza dalla Gard. Tuttavia con l'inflazione dell'8,6% a giugno, anno su anno, nell'Eurozona alcuni analisti propendono per un aumento più deciso di 50 punti base. In ogni caso i mercati già scommettono su un rialzo dello 0,5% per settembre. Ora i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale sono a zero, quelli sui depositi presso la Banca Centrale a meno 0,50. Se l'inflazione gioca a favore dei falchi, i continui tagli alle stime del PIL portano invece acqua al mulino delle colombe assieme alla ridotta fiducia dei consumatori e all'elevata incertezza sul futuro dell'approvvigionamento energetico. Intanto, secondo punto, il nuovo strumento antiframmentazione viene chiamato così e vale a dire lo scudo antispread. Anche se uno strumento completo non è prevedibilmente ancora operativo, è molto probabile che la Gard fornisca nuovi dettagli. Tra gli operatori si fa strada l'idea di uno sfondamento degli spread intorno a quota 400, rappresenti la soglia critica che potrebbe far scattare lo scudo antispread. Il caso dell'Italia rende però più spinosa una soluzione di compromesso sul backstop. C'è il rischio che risulti anacquato da tante condizionalità, diventando poco tempestivo. La Gard dovrà trovare una quadra tra le posizioni dei paesi del nord rigoristi e di quelli del sud, molti dei quali, come il nostro paese e l'Italia, hanno un alto debito pubblico già in passato preso di mira dalla speculazione internazionale. La numero uno della Banca Centrale Europea dovrà poi, durante la conferenza stampa, inviare un messaggio rassicurante sulla determinazione ad agire per scongiurare shock e fenomeni di frammentazione. Una delusione potrebbe mettere in allerta i mercati e aprire varchi nel muro e nella sua capacità di stabilizzare gli squilibri della periferia dell'eurozona. Resta comunque il fatto che l'inflazione dell'area euro in un anno è più che quadruplicata. È passata dall'1,9% all'8,6%. A incidere di più è sempre la componente energetica e lo scenario di razionamento del gas. Mentre la crisi internazionale ha cancellato le speranze che la spirale rialzista dei prezzi sia transitoria, come più volte assicurato in passato da diverse banche centrali. Ieri le borse europee hanno chiuso negative con Piazza Affari che ha segnato il risultato peggiore tra i principali listini condizionati dei problemi politici. L'indice Fuzzimib di Milano è sceso dell'1,60%, oggi è in discesa alle 10 del mattino al 2,6%. Il Fizzicento di Londra ha ceduto lo 0,41%, a Parigi il CAC 40 ha perso lo 0,27% e francoforte il DAX ha chiuso a meno 0,21%. Intanto vedremo gli sviluppi della situazione politica di oggi ma il dato di fatto è che il governo Draghi è caduto e adesso si va spediti verso le elezioni. Comincia ufficialmente la campagna elettorale italiana sotto il sole dei 40 gradi e la perturbazione, chiamiamola così, Apocalisse 4.800, un anticiclone che sta portando molto calore sulla penisola italiana e anche sull'Europa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi nella community di questo canale trovate sondaggi e tante altre notizie minori, i link che vi mandano a Teleitalia Seconda Rete che è l'altro mio canale dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Vi ricordo che poi dopo qualche ora questi video vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove se vi sono interessati questi video li potete condividere tranquillamente, non ci sono problemi di nessun tipo per quanto riguarda i diritti d'autore. Grazie nuovamente e arrivederci a presto. Grazie a tutti.